Inizierà venerdì pomeriggio fino alla sera dopo cena, poi sabato e domenica. Ci sarà possibilità di confrontarsi e vedere il mondo del florobivaismo del nostro territorio ma anche dell'enogastronomia. Ci sarà possibilità di mangiare anche comodamente seduti in piazza e tutto il nostro centro storico che sarà arricchito da questa manifestazione. Vi ringrazio della collaborazione della Proloco Marsilio Ficino e ovviamente un invito a tutti a partecipare alla nostra manifestazione che vedrà anche sabato mattina il secondo appuntamento di Figline Incisa Lab, che è il percorso che è promosso dall'amministrazione comunale sul digitale, sul media, comunicazione e società. Non fa parte del programma di Primaveria, però è un percorso che comunque si intersica con questo. Allo stesso tempo voglio sottolineare che quest'anno torna Primaveria al primo fine settimana di maggio perché il prossimo fine settimana ci sarà la tradizionale festa di primavera di Gaville. Quindi un altro appuntamento che Figline ospita da tantissimi anni e che l'amministrazione appoggia molto volentieri perché è un altro punto della nostra tradizione, del nostro territorio che vogliamo continuare a valorizzare. Diciamo che quest'anno è un'edizione importante perché siamo andati alla quinta. abbiamo fatto una qualificazione delle offerte nel gastronomio perché dobbiamo far assaggiare quello che offre il livello nel nostro territorio. Quindi siamo stati in grado anche di poter mettere dei tavoli, delle sede in modo che l'accoglienza possa essere maggiore. Tengo a sottolineare che in piazza si può anche scenare perché il venerdì e il sabato la manifestazione va fino alle 11. Per cui credo che ci sia una presenza importante, tra l'altro anche per quanto riguarda il florofovaismo. Qui abbiamo uno degli esplositori tradizionali della fiera che creerà questa cornice alla piazza molto bella. Quindi vi aspettiamo in piazza perché ovviamente ci teniamo questa manifestazione di Olli Gaville.